Oceano indiano, Madagascar. Qui è l'equipaggio dell'Andrea Doria. Siamo impegnati in una missione di contrasto della pirateria marittima. Da mesi navighiamo in acque dall'altra parte del mondo, lontani dalle nostre case e dai nostri cari. Ma è accaduto qualcosa di speciale. Dall'Italia è arrivata una notizia. La marina militare aderisce alla campagna solidale Teleton Un Cuore per Te. La mente è andata subito ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, la città della nostra base navale. Sul ponte del Doria il comandante ha comunicato il via all'operazione. Un ultimo tratto e finalmente i cuori di cioccolato raggiungono l'ospedale e i suoi bambini. La bellezza dei loro sorrisi. La forza dei loro abbracci. In quel momento capiamo che ovunque tu sia, donare rende felici. Tutti. Grazie, donare. Grazie, donare. Grazie, donare. Buon Natale a tutti. Grazie a tutti.